Ci sarà presto un nuovo arrivo all'interno della famiglia di Elettra Lamborghini? Scopriamo insieme cosa ha detto la celebre cantante. Noi siamo ciò che vogliamo essere e questo è un concetto che, al di là di tutto, deve rimanere sempre bene impresso nella nostra mente. Crescere, infatti, vuol dire affacciarsi pian piano alla vita da adulti, alle responsabilità, ai problemi, al lavoro e alle diverse vicissitudini che si possono incontrare sul proprio percorso. Malgrado ciò, per quanto possa essere difficile, dovremmo riuscire a non dimenticare mai quali sono i nostri sogni, i nostri obiettivi personali e le nostre passioni. Tutti noi, in fondo, abbiamo bisogno di un appiglio che ci permetta di, scappare, dalla realtà quando questa ci sembra troppo ingombrante da gestire. O semplicemente di un posto, di un'attività o di una persona che ci trasmetta serenità e benessere, che riesca a farci essere noi stessi e che ci ricordi quanto è bello ritagliarsi dei momenti da dedicare a ciò che amiamo. Questo vale per tutti, ovviamente, genitori, bambini, adulti, uomini e donne in carriera e anche personaggi del mondo dello spettacolo. Un esempio di quanto appena accennato ci viene fornito spesso da Elettra Lamborghini, celebre cantante non solo in Italia, ma anche all'estero, per i suoi travolgenti tormentoni estivi e per il suo stile inconfondibile che si ispira al reggaeton. Nonostante la carriera nel mondo della musica le porti via gran parte del suo tempo, Elettra non solo è riuscita a trovare l'uomo della sua vita il DJ olandese Nick Van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack con Volando a Nozze, ma si può dire anche che non abbia mai smesso di essere presente e dare amore alla propria famiglia. E quando si parla di famiglia non ci si riferisce solamente a fratelli, sorelle, genitori e marito, ma anche ai nostri amici a quattro zampe. Elettra Lamborghini. La sua famiglia sta per allargarsi. Sono diverse le situazioni che rendono le nostre giornate impegnate e frenetiche, è vero. Ma per essere sempre efficienti e per far sì che anche il nostro rendimento sia tale, dobbiamo categoricamente imporci di dedicare del tempo a noi stessi e a ciò che ci piace fare. Elettra Lamborghini questo lo ha capito. Motivo per il quale tra un impegno lavorativo e l'altro, non perde mai occasione di occuparsi del suo cavallo. L'equitazione, infatti, è sempre stata una grande passione per la cantante fin da quando era piccola. Anche se ad oggi il percorso di vita e lavorativo della Lamborghini ha preso tutt'altra strada. Ciò non le ha mai impedito, però, di prendersi cura del suo cavallo di nome Dadi. E con quest'ultimo, come si evince anche dal suo profilo social, Elettra Lamborghini ha un rapporto davvero speciale. Di recente, a tal proposito, proprio tramite una story pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, la Lamborghini rispondendo a un suo fan ha rivelato il suo desiderio di prendere un altro cavallo. E che, forse, a breve il suo sogno potrebbe diventare realtà. Tra qualche tempo, dunque, Elettra Lamborghini potrebbe presentare ufficialmente ai suoi follower un nuovo importantissimo membro della sua famiglia a quattro zampe. Perché sì, gli animali sono famiglia. E questo bene ricordarlo sempre.